Lo scarabeo d'oro Ma guarda, quel ragazzo ha la pazzia di ballare, è stato morsicato dalla tarantora. Tutto è contrario. Molti anni orsuno mi legai di stretta amicizia con un tale William Legrane. Egli apparteneva a un'antica famiglia ugonotta e una volta era stato ricco, ma una serie di disgrazie l'aveva ridotto in miseria. Per sfuggirne la mortificazione abbandonò New Orleans, città dei suoi avi, e si trasferì nell'isola di Sullivan, presso Charleston, nella Carolina Meridionale. Quest'isola è molto singolare, consiste di poco altro che sabbia marina e ha circa tre miglia di lunghezza. In larghezza non misura mai più di un quarto di miglio. È separata dalla terra ferma da una gora appena visibile, che filtra attraverso una macchia fangosa di canne, ritrovo favorito della gallina acquatica. La vegetazione, come è facile a supporre, ricresce misera e nana. Non vi si vedono alberi che possano dirsi propriamente tali. Verso l'estremità occidentale, dove si trova il forte Multri e qualche miserabile casuccia di legno, abitata d'estate da gente che fugge le febbri e la polvere di Charleston, si incontra, è vero, il palmetto spinoso. Ma, fatta eccezione di questo punto occidentale, è di una striscia dura e biancastra sul mare. Tal'isola è coperta da una fitta macchia di mirto odoroso, tanto apprezzato dagli orticoltori inglesi. I cespugli qui raggiungono spesso l'altezza di 15 o 20 piedi e formano un folto quasi impenetrabile, che appesantisce l'aria della sua fragranza. Nel più forte di questa macchia, non lontano dall'estremità orientale, la più remota dell'isola, Lagrange era costruita una piccola capanna, nella quale viveva quando io, per puro caso, feci la sua conoscenza. Questa ben presto si cambiò in amicizia, poiché nel carattere di quel recluso vi era di che destare l'interesse e la stima. Egli era molto istruito, dotato di facoltà intellettuali non comuni, ma affetto da misantropia e soggetto a morbose alternative di entusiasmo e di malinconia. Aveva con sé molti libri, ma raramente leggeva. I suoi divertimenti principali erano la caccia e la pesca, o anche passeggiare sulla spiaggia o fra i mirti, in cerca di conchiglie e di rarità entomologiche. La sua collezione avrebbe potuto fare invidia a uno swammerdam. In queste escursioni lo accompagnava di solito un vecchio negro di nome Jupiter, affrancato prima che cominciassero i rovesci della famiglia Legrà, ma che nessuno era riuscito né con minacce né con promesse a convincere di abbandonare quello che egli considerava diritto di sorveglianza sul suo giovane Massa Will. Non è improbabile che i parenti di Legrà, ritenendo quest'ultimo alquanto squilibrato di mente, fossero riusciti a suggerire questa ostinazione a Jupiter allo scopo di assistere e proteggere il vagabondo. Nella latitudine dell'isola di Sullivan, raramente gli inverni sono rigorosi ed è eccezionale il caso che d'autunno sia indispensabile far fuoco. Verso la metà d'ottobre del 1800 e... capitò comunque una giornata di freddo intenso. Poco prima del tramonto mi andavo aprendo un passaggio attraverso i sempreverdi verso la capanna del mio amico che da varie settimane non avevo visto. Abitavo allora a Charleston, distante nove miglia dall'isola e le possibilità di andare e venire erano assai minori di quelle di oggi dì. Arrivato alla capanna, secondo il solito picchiai. Non ricevendo risposta, cercai la chiave là dove sapevo che veniva nascosta di solito. Apri la porta ed entrai. Un bel fuoco fiammeggiava nel camino. Era una novità e tutt'altro che spiacevole. Mi sbarrazzai del pastrano, tirai una poltrona vicino ai tronchi scoppiettanti e mi misi pazientemente ad aspettare l'arrivo dei miei ospiti. Essi arrivarono poco dopo l'imbrunire e mi fecero un'accoglienza molto cordiale. Jupiter, col viso tutto un sorriso, si mise in faccende per cucinare alcune galline d'acqua che dovevano servirci da cena. Legrin era in preda a una delle sue crisi, come chiamarla altrimenti, d'entusiasmo. Aveva trovato una bivalva sconosciuta che dava origine a una nuova specie, ma più di questo era contento d'essere riuscito, con l'aiuto di Jupiter, a impadronirsi di uno scarabeo che egli credeva di un genere assolutamente nuovo e del quale desiderava di avere, la mattina dopo, la mia opinione. «E perché no stasera?» domandai io con le mani tese alla fiamma, mandando al diavolo dentro di me l'intera genia degli scarabei. «Ah, se avessi saputo che eravate qui!» fece Legrin. «Ma è tanto che non vi abbiamo visto! Come avrei mai potuto immaginare che sareste venuto a farmi visita per l'appunto stasera?» Tornando a casa ho incontrato il tenente G. del forte ed avvero stordito gli ho prestato lo scarabeo e così non lo potete vedere sino a domattina. Fermatevi qui stanotte e domattina all'alba manderò Iuppa a prenderlo. È la cosa più bella del creato. Cosa? L'alba? No, no, lo scarabeo. È tutto color d'oro, grosso come una noce, con due macchie nerissime a una estremità del dorso e una terza un po' lunga all'altra. Le antenne sono... «Chi antenne e non antenne?» interruppe Jupiter. «È proprio un ronzon d'oro, tutto d'oro, di dentro e di fuori, meno le ali». Ma hai sentito un insetto che pesasse nemmeno la metà di quello lì. «Va bene, Iuppa, diciamo che sia così», rispose Legrà. «Un poco più sul serio, mi parve, di quanto non fosse il caso. Ma questa non è una buona ragione per lasciar bruciare la cena. Il colore», che si rivolse a me, certo parrebbe rendere plausibile l'idea di Jupiter. «Un luccichio più metallico, più brillante di quello delle sue elitre, non l'avrete certamente mai visto. Ma sino a domani non ne potete giudicare. Intanto posso darvi un'idea della sua forma». Nel dir questo si mise a sedere a un tavolino sul quale si trovavano penna e calamaio. Ma non c'era carta. Egli guardò nel tiretto, ma non ce n'era nemmeno lì. «Non importa», disse finalmente. «Questo basterà». E tirò fuori dal taschino della sottoveste un pezzetto di carta, molto sudicia, che parve della pergamena e vi abbozzò un disegno a penna. Io intanto stavo sempre al fuoco. Avevo ancora freddo. Quando egli ebbe terminato il suo disegno, me lo porse, senza alzarsi. Nel mentre io lo prendevo, si udì un bruntolio rumoroso, poi grattare alla porta. Jupiter aprì e un grosso cane di Terranova, il cane di Legrand si precipitò dentro, mi saltò alle spalle facendomi gran festa. Nelle mie precedenti visite io non ne avevo fatto molto caso. Quando il cane ebbe smesso, guardai la carta e a dire il vero, non fui poco stupito da quel che il mio amico aveva disegnato. «Dunque», dissi dopo di averlo contemplato per vari minuti, «questo è davvero uno strano scarabeus, lo confesso, nuovissimo per me. Non ho mai visto nulla di simile, a meno che non sia un teschio, il cranio di un morto. Somiglia più a un teschio che a qualsiasi altra cosa che mi sia mai capitato di osservare». «Un teschio», ripete Legrand. «Sì, sulla carta c'è una certa somiglianza, senza dubbio. Le due macchine superiori, gli occhi, e quella più lunga, sotto, la bocca. E la forma dell'insieme è ovale». «Può darsi», rispose io, «ma temo, Legrand, che non siate un artista. Bisognerà che aspetti di vedere l'insetto stesso per farmene una vera idea». «Come volete», rispose lui un po' seccato, «eppure io so disegnare, o almeno dovrei saper disegnare. Ho avuto buoni maestri e mi lusingo di non essere assolutamente un idiota». «Ma allora, caro mio, voi volete scherzare, soggiunsi. come teschio è passabile, anzi direi che è un teschio eccellente, secondo le nozioni che si hanno volgarmente su questi esempi di fisiologia. E il vostro scarabeo deve essere il più strano scarabeo del mondo, se gli somiglia. Anzi, ci si potrebbe fabbricare sopra la sua brava superstizione. Raccapricciante addirittura. Suppongo che gli metterete nome Scarabeus Caputominis, o qualche cosa di simile. «Nelle storie naturali si trovano molti nomi del genere. Ma dove sono le antenne di cui mi avete parlato?» «Le antenne», fece Legrin, che prendeva a riscaldarsi su quel soggetto in modo irragionevole. «Bisogna bene che vediate le antenne. Le ho fatte tali e quali sono nell'originale. Mi pare che basti». «Va bene», dissi io. «Mettiamo pure che le abbiate fatte. Il fatto è che io non le vedo». E gli resi la carta senza altre osservazioni, non volendo farlo inquietare. Ma ero molto sorpreso della piega che prendeva la faccenda. Il suo cattivo umore mi dava da pensare, mentre il disegno dell'insetto non presentava traccia di antenne ed era senza dubbio molto somigliante all'immagine solita di un teschio. Legrin riprese la carta di malumore e stava per spiegazzarla, apparentemente per buttarla nel fuoco, quando un'occhiata distratta al disegno parve improvvisamente richiamare su quello la sua attenzione. In un momento il suo viso diventò rosso di bragia e subito dopo pallidissimo. Seguitò qualche minuto senza muoversi di dove stava a esaminare minutamente il disegno. Finalmente si alzò, prese di sulla tavola una candela e andò a sedersi su un baure da marinaio nel canto più lontano della stanza. La riprese con ansia a esaminare la carta rigirandola in tutti i sensi però non diceva nulla e il suo modo di fare mi stupiva estremamente. Comunque io giudicai prudente di non esagerbare il suo crescente malumore con qualche commento. Poi dalla tasca della zacchetta egli prese il portafogli, finise accuratamente la carta e lo ripose in una scrivania che chiuse a chiave. Cominciò allora a calmarsi ma il suo entusiasmo di prima si era spento affatto. Tuttavia pareva piuttosto astratto che scontroso. Col protrarsi della serata si assorbì sempre più nelle sue fantasticherie dalle quali i miei tratti di spirito non riuscivano a destarlo. Avevo avuto l'intenzione di passare la notte nella capanna come mi era successo altre volte ma visto l'umore del mio ospite riputai conveniente prender congedo. Legrin non mi esortò a restare tuttavia quando partì mi strinse la mano anche più cordialmente del solito. Fu circa un mese dopo e per tutto questo tempo non avevo saputo più nulla di Legrin che ricevetti la visita a Charleston del Negro Jupiter. Non avevo mai visto il buon vecchio così avvilito ed ebbi paura che fosse venuta qualche grave disgrazia al mio amico. Dunque a Jupp gli dissi cosa c'è di nuovo? Come sta il tuo padrone? Per dir la verità Massa potrebbe stare anche meglio. Non sta bene? Me ne dispiace davvero ma che cosa? di che cosa si lamenta? Eh appunto non si lamenta di nulla ma è malato lo stesso malato grave. Grave Jupiter perché non me l'ha detto subito? E ha letto? E meno per sogno non trova pace in nessun posto questo è il male io sto molto in pensiero per il povero Massa Will. Piegati chiaro Jupiter santo Dio dici che il tuo padrone è malato non ti ha detto che cosa? ecco Massa perché vi arrabbiate? Massa Will dice che lui non ha niente ma allora cos'è che lo fa andare di qua e di là a questo modo con la testa giù e le spalle su e bianco come un'oca e poi quelle cifre sempre cosa Jupiter? Le cifre sulla lavagna le cifre più strambe che io abbia mai visto ve lo dico io io comincio ad aver paura bisogna che non lo perda di vista un momento l'altro giorno mi è scappato prima dell'alba ed è rimasto fuori tutto il giorno io avevo preparato un bel bastone per dargli una lezioncina quando sarebbe tornato ma son tanto bestia che poi non ho avuto il cuore di dargliela aveva tanto brutta cera come? ah sì tutto considerato direi che sarebbe meglio non far troppo il severo con quel povero figuolo non bisogna bastonarlo Jupiter non potrebbe sopportarlo ma non ha idea di cosa sia stato l'origine di questa malattia o piuttosto di questo mutamento di condotta è accaduto nulla di spiacevole da quando ci siamo visti no Massa dall'ora in poi nulla è di prima che ho paura fu il giorno che c'eravate voi cosa? che vuoi dire? ecco Massa voglio dire lo scarabeo ecco ora l'ho detto lo scarabeo io sono proprio sicuro che Massa Will è stato morsicato in qualche posto nel capo da quello scarabeo d'oro che cos'è Jupiter? che ti fa supporre? le pinze non gli mancano né la bocca non ho mai visto un insetto così dannato urta morsica tutto quello che gli viene vicino Massa Will l'ha preso per primo ma lo dovette lasciare andare alla svelta ve lo dico io è allora che è stato morsicato quella bocca non mi piaceva punto a me ma proprio punto con le dita non l'avrai preso davvero io l'ho preso con un pezzo di carta che era lì in terra l'involtai nella carta gliene ficcai un pezzo in bocca quello era il modo dunque tu credi che il tuo padrone sia stato morsicato davvero dallo scarabeo e che sia stata la morsicatura a farlo ammalare io non credo nulla lo so che cos'è che lo fa sognare sempre oro se non perché è stato morsicato dallo scarabeo d'oro ne ho sentito dir tante di questi scarabei d'oro ma come fai a sapere che sogna sempre oro come lo so ne parla mentre dorme ecco come lo so mettiamo che tu abbia ragione a quale fortunata circostanza debbo attribuire l'onore della tua visita oggi cosa volete dire Massa hai forse da farmi un'ambasciata da parte di Mr. Legrand no Massa vi porto questa lettera e qui Jupiter mi porse un biglietto che diceva mio caro per quale ragione non vi fate più vedere spero che non sarete stato tanto sciocco da prendervi a male i miei modi bruschi di quel giorno ma questo non è possibile da quando vi ho veduto l'ultima volta ho avuto di che essere molto preoccupato ho qualche cosa da dirvi eppure non so come dirvelo e nemmeno se ve lo debo dire da qualche giorno non sto bene e il mio buon vecchio Jupiter mi secca in modo insopportabile con le sue benevoli attenzioni lo credereste l'altro giorno aveva preparato un bel bastone per castigarmi di essere riuscito a scappargli e di aver passato tutta la giornata Solus sulla terraferma fra le colline credo in verità che soltanto la mia cattiva cera mi abbia risparmiato una bastonatura da quando ci siamo visti non ho aggiunto nulla alla mia collezione se vi è possibile in un modo o nell'altro tornate con Jupiter venite vorrei vedervi stasera per affari di importanza vi assicuro che è cosa della più alta importanza sempre vostro William Legrand nel tono di quel biglietto c'era qualche cosa che mi mise addosso un gran disagio il suo stile differiva assai dal solito Legrand che cosa mai andava sognando quale nuovo via aveva preso possesso della sua mente eccitabile quale affare della più alta importanza poteva egli aver mai da trattare quel che di lui raccontava Jupiter non dava nulla di buono da presagire temetti che il continuo peso delle disgrazie avesse col tempo scosso la ragione del mio amico senza più un momento di esitazione mi preparai ad accompagnare il negro giunti che fummo al molo vidi una falce e tre vanghe nuove in apparenza sul fondo della barca nella quale stavamo per imbarcarci e questo che vuol dire iup chiesi sono una falce massa e tre vanghe verissimo ma che ci stanno a fare sono la falce e le vanghe che Massa Will ha voluto che gli comprasse in città e quanti quattrini mi sono costate ma che cosa in nome di Dio vuol fare il tuo Massa Will di una falce e tre vanghe questo poi non lo so e il diavolo mi porti se lo sa nemmeno lui ma è tutto lo scarabeo vedendo che non c'era da ottenere molta soddisfazione da Jupiter il cui intelletto sembrava essere interamente assorbito dallo scarabeo scesi nella barca e alzamo la vela con buon vento in favore presto entrammo nella piccola baia a nord del forte Murtri e una camminata di un paio di miglia ci portò alla capanna erano circa le tre del pomeriggio quando arrivammo le gran ci aspettava con viva impazienza egli mi strinse la mano con un'ansia nervosa che mi fece impressione e rinvigorì i miei nascenti sospetti era pallido di un pallore spettrale e i suoi occhi infossati brillavano di una fiamma non naturale dopo qualche domanda sulla salute non trovando altro da dirgli gli chiesi se il luogotenente G gli avesse reso lo scarabeo oh sì rispose arrossendo improvvisamente l'ho riavuto la mattina dopo per nulla al mondo mi separerò più da quello scarabeo gli obiterò ragione e che cosa chiesi con un triste presentimento a dire che è veramente d'oro lo disse con tanta serietà da far pena ad ascoltarlo questo scarabeo è destinato a far la mia fortuna continuò con un sorriso di trionfo e a reintegrarmi nel patrimonio della mia famiglia c'è quindi da stupirsi se lo apprezzo tanto poiché la fortuna ha pensato bene di farmelo cadere nelle mani non ho da far altro che usarne convenientemente per giungere all'oro di cui è l'indizio Jupiter portamelo qui che lo scarabeo massa io non voglio disturbarlo io è meglio che lo prendiate voi con aria grave e solenne le gran si alzò e preso l'insetto di sotto a una campana di vetro dove lo teneva me lo porse era uno scarabeo magnifico sconosciuto allora ai naturalisti e pertanto dal punto di vista scientifico di gran pregio a una estremità del dorso aveva due macchie nere e rotonde e una terza macchia di forma allungata all'altra estremità le elitre erano durissime e lucenti e sembravano di oro brunito il suo peso era molto notevole e tutto considerato non c'era da far troppo carico a Jupiter dell'opinione che ne aveva ma che le gran la pensasse allo stesso modo ecco quello che non potevo capire mi ha mandato a chiamare disse le gran con un tono enfatico quando ebbe finito l'esame dell'insetto per domandarvi consiglio e aiuto nel complimento di ciò che vogliono il fato e lo scarabeo mio caro le gran esclamai interrompendolo voi certo non state troppo bene e fareste meglio a prendere qualche precauzione andate a letto e io starò con voi qualche giorno fino a che non vi sarete rimesso ora avete la febbre tastatemi il polso e gli disse glielo testai e a dire il vero non trovai il più leggero sintomo di febbre ma potreste essere malato senza avere febbre permettetemi una volta tanto di farvi da medico prima di tutto mettetevi a letto poi vi ingannate e gli interruppe io sto come meglio non posso sperare di stare nelle condizioni d'eccitamento in cui mi trovo e veramente mi volete vedere guarito curate la mia esaltazione e come si può fare questo è facilissimo Jupiter e io partiamo per una spedizione nelle colline della terraferma e abbiamo bisogno dell'aiuto di una persona della quale ci si possa fidare completamente il solo di cui abbiamo fiducia siate voi che la nostra impresa riesca o fallisca l'eccitamento che ora vedete in me cesserà decidero vivamente di servirvi in qualche modo risposi ma volete dire che quest'infernale scarabeo abbia qualche rapporto con la vostra spedizione nelle colline senza dubbio e allora le gran mi è impossibile di prendere parte a un'impresa così assurda me ne dispiace me ne dispiace molto perché bisognerà provare da noi soli da soli è impazzito di certo ma vediamo quanto tempo vi proponete di star via probabilmente tutta la notte partiamo subito e in ogni modo saremo di ritorno al levar del sole e mi promettete sul vostro onore che ha pagato questo capriccio e sistemato a vostra soddisfazione buon dio l'affare dello scarabeo ritornerete a casa e seguirete esattamente il mio parere come se fosse quello del vostro medico si lo prometto e ora andiamo perché non abbiamo tempo da perdere accompagnai il mio amico col cuore grosso ci mettemmo in cammino alle quattro le gran Jupiter il cane e io Jupiter prese la falce e le vanghe insistendo a volerle portare lui più per il timore mi parve di lasciare qualcuno di quegli strumenti nelle mani del suo padrone che per eccesso di zelo e di compiacenza era di un umore infernale e le parole dannato scarabeo furono le sole che gli uscirono dalle labbra lungo la strada da parte mia io portavo due lanterne cieche mentre le gran si era contentato del solo scarabeo che portava attaccato all'estremità di un pezzo di spago facendolo girare intorno a sé con un'aria di magia quando osservai quest'ultimo evidente sintomo dell'aberrazione mentale del mio amico riuscì appena a rattenere le lacrime tuttavia giudicai che almeno per il momento fosse meglio dargliela vinta sino a quando non potessi adottare qualche misura più energica con probabilità di successo intanto provavo ma inutilmente a interrogarlo sullo scopo della nostra spedizione ora che era riuscito a persuadermi di accompagnarlo sembrava poco disposto a intavolare discorsi su soggetti di minore importanza e ad ogni mia domanda rispondeva invariabilmente vedremo attraversammo con una barchetta il canale alla punta dell'isola e arrampicandoci sugli spalti della riva di terraferma ci dirigemmo a nord ovest attraverso una regione orribilmente selvaggia ed isolata dove non era traccia di piede umano le gran procedeva per primo con decisione fermandosi solamente di tempo in tempo per consultare certi segni che parevano essere stati fatti da lui stesso in precedenti escursioni andammo avanti così per circa due ore e il sole era al tramonto quando entrammo in una regione infinitamente più sinistra di quante ne avevamo viste sino ad allora era una specie di altipiano in costa alla cima di una collina pressoché inaccessibile coperta di boscaglie dalle falde alla vetta e cosparsa di enormi blocchi di pietra che sembravano giacere alla rinfusa sul suolo e parecchi dei quali sarebbero certo precipitati nelle valli sottostanti se non fossero stati trattenuti dagli alberi a cui si appoggiavano profondi burroni si aprivano in varie direzioni dando alla scena una solennità ancora più tetra la piattaforma naturale sulla quale eravamo saliti era coperta di foltice spugli attraverso i quali ci accorgemmo ben presto che senza l'aiuto della falce non avremmo potuto aprirci un passaggio e Jupiter dietro ordine del suo padrone cominciò a tracciare un sentiero fino al piede di un gigantesco tulipifero che insieme ad otto o dieci querci si alzava sul ripiano sorpassando di molto le querci come qualunque altro albero che io avessi mai veduto per la bellezza delle sue forme e del suo fogliame per l'imponente sviluppo dei suoi rami e per la maestà dell'aspetto arrivati a quell'albero le gran si voltò verso Jupiter e gli domandò se credeva di poterci si arrampicare il vecchio parve piuttosto stupito dalla domanda rimase qualche momento senza rispondere finalmente si accostò al gran tronco ne fece lentamente il giro e l'esaminò con minuziosa attenzione terminato il suo esame disse soltanto si massa iup si arrampica su qualunque albero di questo mondo allora sali più presto che puoi tra poco sarà troppo oscuro per poterci vedere fino a dove bisogna salire massa domandò Jupiter va prima sul tronco poi ti dirò io da che parte ti devi voltare ah fermati prendi con te lo scarabeo lo scarabeo massa will lo scarabeo d'oro gridò il negro su per l'albero che il diavolo mi porti se lo prendo se tu hai paura iup un negro grande e grosso come te se hai paura di toccare un piccolo insetto morto e inoffensivo ebbene lo puoi portare su con questo spago ma se non lo porti su in qualche modo io mi vedrò nella crudele necessità di spaccarti la testa con questa vanga che vi piglia ora massa domandò iup reso più arrendevole dalla vergogna volete sempre bisticciarvi col vostro vecchio negro ma se era soltanto uno scherzo io aver paura dello scarabeo che me ne importa dello scarabeo e tenendo l'insetto quanto più poteva lontano dalla sua persona cominciò ad arrampicarsi lungo il tronco dell'albero in gioventù il tulipifero o liriodendro il più splendido albero delle foreste americane ha un tronco particolarmente liscio che spesso si eleva fino a grande altezza senza rami laterali arrivato poi alla sua maturità la scorza diventa rugosa e ineguale mentre molte corte rame germogliano dal tronco nel nostro caso quindi l'ascensione era più difficile in apparenza che in realtà abbracciando come meglio poteva con le braccia e le ginocchia l'enorme cilindro del tronco afferrando con le mani qualche sporgenza e posando i piedi nudi su altre Jupiter dopo di essere stato sul punto di cadere un paio di volte si spinse sino alla prima grande biforcazione e parve ritenere l'ascensione come virtualmente compiuta infatti il rischio dell'impresa era finito nonostante che il negro si trovasse a 60 o 70 piedi dal suolo e ora Massa Will chiese da che parte devo andare prendi per il tramo più grosso rispose le gran quello da questa parte il negro bedì prontamente e apparentemente senza troppe difficoltà saliva sempre e a un certo punto non fu più possibile vederlo attraverso il denso fogliame che lo avviluppava poi si intese la sua voce come attraverso una nebbia fino a dove bisogna salire a che altezza sei chiese le gran tanto in alto rispose il negro da vedere il cielo sopra la punta dell'albero non ti occupare del cielo ma sta attento a quel che ti dico guarda in giù lungo il tronco e conta i rami sotto di te da questa parte quanti ne hai passati uno due tre quattro cinque ho passato cinque rami grossi da questa parte massa allora sali un ramo più in su dopo qualche minuto si fece sentire di nuovo la voce del negro che annunziava di aver raggiunto il settimo ramo ora iup gridò le gran in preda una manifesta agitazione bisogna che tu trovi il modo di avanzare più che puoi su quel ramo se vedi qualche cosa di strano dimmelo ormai quel po' di dubbio che mi poteva essere rimasto sulla pazzia del mio povero amico era sparito non rimaneva altra alternativa che di considerarlo come colpito da alienazione mentale e cominciai a preoccuparmi seriamente sul da farsi per ricondurlo a casa mentre stavo pensando a quel che sarebbe stato meglio fare la voce di jupiter si fece sentire un'altra volta ho paura di spingermi troppo su questo ramo è secco per quasi tutta la sua lunghezza hai detto proprio che è un ramo secco jupiter gridò le gran con la voce tremante si secco come un chiodo e non c'è dubbio possibile morto partito in nome di dio che cosa devo fare chiese le gran che pareva in preda alla disperazione che fare risposi prendendo l'occasione di metterci una parola tornare a casa e andare a letto via da bravo venite si fa tardi e poi ricordatevi della vostra promessa jupiter ridò il mio amico senza darmi retta mi senti si massa will vi sento perfettamente prova il legno col tuo coltello e dimmi se ti pare molto putrefatto putrefatto massa molto putrefatto rispose il negro dopo qualche momento non tanto però quanto potrebbe esserlo potrei avanzare ancora un poco sul ramo ma solo solo che cosa vuoi dire voglio dire lo scarabeo lo scarabeo è molto pesante mettiamo che lo lasciassi cascar prima il ramo non si spezza di certo col peso di un povero negro briccone infernale fece le gran che parve molto sollevato che sciocchezze son queste se lasci ceder l'insetto vada che ti torco il collo hai inteso jupiter si massa ma non vale la pena di trattare in questo modo un povero negro ebbene ora ascolta se ti spingerai su quel ramo più lontano che potrai senza pericolo e senza lasciarlo scarabeo appena sarai disceso ti regalerò un dollaro d'argento vado vado massa will eccomi rispose sollecitamente il negro son quasi alla fine alla fine urlò quasi le gran hai detto che sei alla fine del ramo ci sono quasi massa oh signore dio misericordia che cos'è questo sull'albero ebbene gridò le gran al colmo della gioia che c'è eh non è altro che un teschio qualcuno ha lasciato la sua testa sull'albero e i corvi ne hanno mangiato tutta la carne un teschio tu dici benissimo è come attaccato al ramo cos'è che lo regge sicuro massa ora guardo parola d'onore questa è curiosa c'è un chiodo un gran chiodo che lo tiene fermo all'albero dunque ora jupiter fa esattamente quel che ti dico hai capito sì massa sta attento trova l'occhio sinistro del teschio oh questa è buffa davvero e non c'è occhio sinistro maledetto stupido lo sai qual è la mano destra e la sinistra sicuro che lo so la mia mano sinistra è quella con la quale taglio la legna già sai mancino e il tuo occhio sinistro si trova dalla stessa parte della tua mano sinistra ora mi pare che dovresti riuscire a trovare l'occhio sinistro del teschio o il posto dov'era lo hai trovato qui occorse una lunga pausa finalmente il negro domandò l'occhio sinistro del teschio sta dalla stessa parte che la mano sinistra del teschio perché il teschio non ha punto mani ma non fa nulla ho trovato l'occhio sinistro ecco qua l'occhio sinistro e ora cosa ne devo fare passaci lo scarabeo attraverso fino a che ti basta lo spago ma sta bene attento a non lasciarlo andare ecco fatto Massa Will non era difficile far passare lo scarabeo dal buco guardate eccolo che scende durante questo dialogo la persona del negro era rimasta invisibile ma l'insetto che egli faceva scorrere appariva ora appeso all'estremità dello spago e scintillava come una sfera d'oro brunito agli ultimi raggi del sole morente che ancora illuminava debolmente l'altura sulla quale eravamo lo scarabeo pendeva fuori dal viluppo dei rami e se Jupiter lo avesse lasciato andare sarebbe caduto ai nostri piedi e granplase immediatamente la falce e si mise a liberare dai cespugli uno spazio circolare di tre o quattro metri di diametro proprio sotto all'insetto appeso poi quando ebbe terminato ordinò al negro di lasciare andare lo spago e di scendere dall'albero con scrupolosa diligenza il mio amico conficcò un piolo nel punto preciso dove lo scarabeo era caduto e si trasse quindi di tasca una misura a nastro e fissò un'estremità al tronco dell'albero dalla parte più vicina al piolo la srotolò sino a raggiungere quest'ultimo e poi ancora nella direzione già stabilita da questi due punti il tronco e il piolo per un 50 piedi per un 50 piedi nel mentre jupiter seguitava con la falce a pulire il terreno dai cespugli nel punto così raggiunto venne piantato un secondo piolo intorno al quale fu descritto grossolanamente un circolo di circa quattro piedi di diametro le gran prese allora una vanga e dandone una a jupiter e un'altra a me ci pregò di mettersi a scavare di tutta l'ena a dire il vero io non ho mai trovato gran gusto in tale esercizio e in quel momento ne avrei fatto molto volentieri a meno perché la mezzanotte avanzava ed ero già stanco della fatica durata fino all'ora ma non vedevo via d'uscita e temevo di turbare con un rifiuto la calma del mio povero amico avessi potuto contare sull'aiuto di jupiter non avrei esitato a tentare di ricondurre con la forza quel pazzo a casa sua ma conoscevo troppo bene il carattere del vecchio negro per poter contare su di lui se in qualunque circostanza si fosse reso necessario intraprendere una lotta personale col suo padrone non dubitavo che le gran non fosse stato contagiato da una delle innumerevoli superstizioni che si hanno nel sud a proposito di tesori nascosti e che tal'idea avesse trovato conferma nella scoperta dello scarabeo o forse anche nella ostinazione di jupiter a sostenere che si trattava di uno scarabeo d'oro vero una mente propensa alla follia poteva facilmente lasciarsi dominare da simili suggestioni specialmente se andavano d'accordo con altre proprie idee preconcette poi mi ricordai il discorso del povero giovane sullo scarabeo inizio della fortuna in conclusione ero crudelmente tormentato e imbarazzato ma risolvetti di far di necessità virtù e mi misi a scavare di lena e così convincere il visionario con una dimostrazione oculare della inanità delle sue illusioni accendemmo le lanterne e ci mettemmo al lavoro con uno zelo degno di miglior causa alla debole luce che rischiarava noi ai nostri utensili non potevo rattenermi dal pensare che formavamo un gruppo assai pittoresco e che il nostro lavoro sarebbe parso assai strano e sospetto a chi per caso fosse passato di là faticammo per due ore buone scambiammo ben poche parole fra di noi e il nostro imbarazzo principale era cagionato dall'abbaiare del cane che prendeva troppo interesse al nostro lavoro quell'abbaiare alla fine diventò talmente turbolento che tememmo di dare l'allarme a qualche sbandato dei dintorni era legranga dire il vero che lo temeva per conto mio io sarei stato felice di qualsiasi interruzione che mi avesse permesso di ricondurre a casa il vagabondo finalmente il chiasso fu interrotto da Jupiter il quale uscendo dalla buca con un'aria di ostinata deliberazione legò la bocca della bestia con una delle sue bretelle e dato quindi una risata grave e soddisfatta si rimise al lavoro in capo alle due ore avevamo raggiunto una profondità di cinque piedi e non si era palesato ancora nessun segno di tesoro seguì una pausa generale e io cominciai a sperare che la farsa fosse per finire tuttavia legrin quantunque visibilmente sconcertato si asciugò la fronte con aria pensosa e riprese a scavare avevamo già scavato tutto il circolo di quattro piedi di diametro ora allargammo di qualche poco il limite e scavammo ancora per due piedi di profondità ma non apparve nulla il cercatore d'oro di cui avevamo sincera compassione finalmente risalì dalla fossa col più amaro disinganno sul viso e lentamente e con riluttanza si mise a infilare la giacca che sarà levata nel cominciare il lavoro intanto io non facevo alcuna osservazione a un segno del padrone jupiter prese a radunare gli arnesi il che fatto e tolto la moseruola al cane prendemmo la via del ritorno in profondo silenzio avevamo dato forse una dottina di passi quando legrin con una grossa bestemmia saltò addosso a jupiter e la ferra per il bavero il negro stupefatto spalancò quanto erano grandi gli occhi e la bocca lasciò cadere gli arnesi e cadde in ginocchio scellerato gridò legrin fischiando le sillabe fra i denti negro d'inferno parla ti dico rispondi subito e sta bene attento a non sbagliare qual è il tuo occhio sinistro ah misericordia ma sa will questo è il mio occhio sinistro di certo urlò terrorizzato jupiter ponendosi la mano sull'occhio destro e tenendovela ferma con l'ostinatezza della disperazione come in timore che il suo padrone glielo volesse strappare me lo immaginavo lo sapevo bene e viva si mese a urlare legrin lasciando libero il negro e abbandonandosi a una serie di sgambetti e di capriole con grande stupore del suo domestico il quale rialzatosi in piedi senza una parola tirava lo sguardo dal suo padrone a me e da me al suo padrone andiamo bisogna tornare indietro fece questi la partita non è perduta e ci ricondusse verso il tulipifero vieni qui jupiter disse quando giunse ai piedi dell'albero il teschio inchiodato al ramo stava con la faccia rivolta in fuori o verso il ramo la faccia era rivolta in fuori massa così che i corvi potevano beccare gli occhi senza difficoltà dunque è da quest'occhio o da quest'altro che hai fatto passare lo scarabeo e le gran così dicendo toccò alternativamente gli occhi di jupiter da questo qui massa l'occhio sinistro proprio come mi dite ed era l'occhio destro che il negro diceva andiamo bisogna riprovare allora il mio amico nella cui follia io ora vedevo o credevo di vedere alcuni indizi di metodo rimosse il piolo che indicava il punto dove era accaduto lo scarabeo di un tre pollici verso ovest dal posto di prima svolgendo quindi nuovamente la sua misura dal punto più vicino del tronco al piolo e continuando poi a svolgerla in linea dritta fino a una distanza di 50 piedi ne risultò un nuovo punto distante varie yard da quello scavato intorno alla nuova posizione venne ora tracciato un circolo un po' più largo del primo e tutti ci rimettemmo a lavorare con le vanghe io ero terribilmente stanco ma senza capire perché non sentivo più la grande avversione di prima per la fatica che mi veniva imposta vi prendevo un inesplicabile interesse anzi ero addirittura eccitato forse nella condotta stravagante di Legrand c'era qualche cosa di deliberato di previsto che mi impressionava scavavo con ardore e di tanto in tanto mi sorprendevo a spiare con un curioso sentimento che somigliava all'aspettativa se comparisse quell'immaginario tesoro che aveva fatto dar di volta il cervello del mio sventurato compagno in un momento in cui queste fantasie si erano più pienamente impadronite di me dopo di aver già lavorato cioè forse per un'ora e mezzo fummo di nuovo interrotti dai violenti latrati del cane l'inquietudine dell'animale la prima volta non era evidentemente che il risultato di un capriccio o di voglia di ruzzare ma questa volta aveva un tono grave risentito essendosi Jupiter provato nuovamente a chiudergli la bocca esso gli oppose una resistenza furiosa e saltando dentro alla fossa prese a grattar freneticamente la terra con le unghie in pochi secondi aveva scoperto un mucchio d'ossa umane che formavano due scheletri completi in mezzo ai quali si trovavano diversi bottoni di metallo e qualche cosa che ci parve essere polvere di vecchia lana putrefatta uno o due colpi di vanga fecero saltar fuori la lama di un grosso coltello spagnolo e scavato più a fondo tre o quattro monete d'oro e d'argento vennero alla luce la gioia di Jupiter a quella vista poteva appena essere contenuta ma la fisionomia del suo padrone prese l'espressione di estremo disinganno si pregò tuttavia di continuare i nostri sforzi e non aveva finito di parlare che io traballai e caddi bocconi la punta del mio piede era stata presa in un grosso anello di ferro che giaceva sepolto a metà della terra smossa allora sì che lavorammo sul serio non ho mai passato in vita mia dieci minuti di così viva esaltazione in questo spazio di tempo mettemmo allo scoperto una cassa di legno di forma oblunga che a giudicar dalla sua perfetta conservazione e dalla sua meravigliosa durezza aveva dovuto evidentemente subire qualche processo di mineralizzazione forse quella del bicloruro di mercurio questa cassa era lunga tre piedi e mezzo larga tre e profonda due e mezzo era solidamente fasciata di lamina in ferro battuto che le si intrecciavano tutto intorno su ogni lato vicino al coperchio si vedevano tre anelli di ferro sei in tutto per mezzo dei quali si poteva far buona presa in sei portatori riunendo le nostre forze non riuscimmo che a smuoverla lievemente fuori del suo letto già vedemmo subito dell'impossibilità di trasportare un tal peso per fortuna la chiusura del coperchio consisteva solo in due catenacci li facemmo scorrere tremanti e frementi d'ansietà un momento dopo un tesoro di un valore incalcolabile giaceva luccicante ai nostri piedi ai raggi della lanterna sprizzarono i riflessi i luccicchi di un ammasso confuso d'oro e di gioielli che abbagliavano la vista non pretendo di descrivere il sentimento col quale osservavo il tesoro lo stupore naturalmente predominava Legrand pareva esausto dal suo stesso eccitamento e non disse due parole il viso di Jupiter per qualche minuto fu di un pallore mortale per quanto possa nella natura delle cose diventar pallida la faccia di un negro era stupefatto fulminato poi cadde in ginocchio nella fossa e immergendo sino al gomito le braccia nude nell'oro ve le tenne a lungo come godendo la volutà di un bagno finalmente con un profondo sospiro esclamò come in soliloquio e tutto questo viene dallo scarabeo d'oro caro scarabeo d'oro povero scarabeo d'oro che ho tanto calunniato non ti vergogni brutto negro cosa mi puoi rispondere si rese tuttavia necessario alla fine che io richiamassi padrone e servitore all'urgenza di portar via il tesoro si faceva tardi e occorreva tutta la nostra attività se volevamo mettere ogni cosa al sicuro prima dello spuntar del giorno non sapevamo che partito prendere le nostre idee erano così confuse che perdemmo un gran tempo a deliberare finalmente alleggerimmo la cassa togliendone due terzi del contenuto e così potemmo ma non senza fatica trarla fuori della fossa gli oggetti che ne avevamo cavati furono deposti fra i cespugli e lasciati alla guardia del cane a cui Jupiter ingiunse di non muoversi sotto nessun pretesto e di non apir bocca fino al nostro ritorno poi ci mettemmo precipitosamente in cammino con la cassa e a luna del mattino raggiungemmo sani e salvi e però stanchi morti la capanna in quelle condizioni non era umanamente possibile di rimettersi subito all'opera ci riposammo fino alle due e cenammo per riprendere quindi la via delle colline muniti di tre grossi sacchi che fortunatamente si trovavano in casa poco prima delle quattro arrivammo alla fossa dividemmo il rimanente del bottino in parti uguali fra di noi e lasciando le buche aperte ritornammo alla capanna dove per la seconda volta depositammo il nostro prezioso fardello mentre il primo pallido chiarore dell'alba spuntava sopra le cime degli alberi a oriente eravamo sfiniti ma il nostro profondo eccitamento non ci permise di riposare dopo un inquieto assopimento di tre o quattro ore ci alzammo tutti e tre in un punto come se ci fossimo messi d'accordo per procedere all'esame del nostro tesoro il baule era pieno fino all'orlo e impiegammo tutta la giornata e la massima parte della nottata seguente a far l'inventario di ciò che conteneva non c'era nessun ordine tutto era stato ammucchiato là dentro alla rinfusa quando ebbimo classificato accuratamente ogni cosa ci trovammo in possesso di una fortuna che sorpassava le nostre previsioni vi erano quattrocentomila dollari in monete delle quali stimammo il valore il più approssimativamente possibile con le tavole del tempo non si trovò un grammo di argento era tutto oro antico e di una grande varietà denaro francese spagnolo e tedesco qualche guinea inglese e qualche gettone di cui non avevamo mai veduto esempio vi erano alcune monete grandissime e pesantissime così logorate che fu impossibile decifrarne le iscrizioni non vera nessuna moneta americana trovammo più difficile stimare i gioielli i diamanti alcuni dei quali grandissimi e di una rara bellezza erano centodieci e non uno piccolo diciotto i rubini di notevole lucentezza trecentodieci gli smeraldi tutti assai belli ventuno zaffiri e uno pale le pietre erano state tutte divelte dalle loro legature e gettate alla rinfusa nel baule le legature che scegliemmo tra loro al quale erano mescolate parevano essere state pestate a colpi di martello come per impedirne il riconoscimento oltre a tutto questo vera una gran quantità di ornamenti in oro massiccio quasi duecento anelli e orecchini e belle catene trenta se ben mi rammento ottantatré crocifissi molto grandi e pesanti cinque incensieri d'oro d'un gran valore una gigantesca cogoma da punch d'oro adorna di foglie di vite e di baccanti finemente cesellate due else di spada squisitamente lavorate e una quantità di altri oggetti più piccoli che ora non mi vengono in mente il peso degli oggetti superava 350 libre e in questa stima ho messo 197 orologi d'oro tra dei quali valevano certo 500 dollari l'uno parecchi erano molto vecchi e di nessun valore come orologi avendo i meccanismi sofferto per l'azione corrosiva della terra tutti però erano riccamente adorni di pietre e le casse erano di gran pregio quella notte valutammo il tutto a un milione e mezzo di dollari e quando più tardi vendemmo i gioielli e le gemme ritenendone alcuni per nostro uso personale trovammo di esserci tenuti molto al di sotto del vero terminato il nostro inventario e rimessici alquanto dalla intensa eccitazione in cui versavamo le gran accorgendosi che morivo dalla voglia di conoscere la spiegazione di quel predigioso enimma mi fece un dettagliato resoconto di tutte le circostanze che vi si riferivano vi ricordate mi disse la sera in cui vi mostrai lo schizzo che avevo fatto dello scarabeo ricorderete pure che rimasi piuttosto seccato per la vostra insistenza nel sostenere che il mio disegno somigliava a una testa di morto la prima volta che faceste quell'asserzione credevo che scherzaste ma poi ricordai le strane macchie sul dorso dell'insetto e riconobbi fra me e me che la vostra osservazione aveva un certo fondamento di verità pure il vostro sarcasmo al riguardo della mia capacità di disegnare mi aveva irritato perché io sono considerato un discreto artista perciò quando mi restituiste il pezzo di pergamena feci per spiegazzarlo e buttarlo nel fuoco arrabbiato parlate del pezzo di carta interruppi non si trattava di carta ne aveva tutta l'apparenza e io stesso da prima supponevo che lo fosse ma quando mi provai a disegnarci mi accorsi che era un foglio sottirissimo di pergamena era molto sudicio ve ne ricorderete dunque proprio mentre stavo per spiegazzarlo incontrai con gli occhi il disegno che avevate guardato immaginate il mio stupore quando vidi infatti l'immagine di un teschio là dove avevo creduto di disegnare uno scarabeo per un momento rimasi troppo stordito per poter pensare con chiarezza sapevo che il mio disegno differiva da quello in tutti i particolari sebbene vi fosse una certa analogia nel contorno generale presi allora una candela e sedendomi all'altra estremità della stanza mi mise a esaminare più attentamente la pergamena voltandola trovai il mio schizzo sul rovescio precisamente come lo avevo fatto la mia prima impressione fu semplicemente di sorpresa per quella veramente singolare analogia del contorno e per la bizzarra coincidenza che proprio sotto al mio disegno dello scarabeo esistesse sull'altra facciata della pergamena quell'immagine di teschio e che tale immagine rassomigliasse tanto al mio disegno non solo nel contorno ma anche nella grandezza la singolarità di questa coincidenza mi tenne come stupidito per qualche istante tale è di solito l'effetto che producono questi casi la mente si sforza di stabilire un rapporto un seguito di causa ed effetto e non essendone capace subisce una specie di paralisi temporanea ma quando mi ripresi da cotesto stupore si formò in me a grado a grado una convinzione che mi colpì bene altrimenti della coincidenza cominciai a ricordarmi distintamente con certezza che sulla pergamena non vi era stato alcun disegno quando avevo fatto il mio schizzo dello scarabeo ne acquistai la sicurezza assoluta ricordandomi di averlo voltato e rivoltato per cercare il posto più pulito se il teschio fosse stato visibile non avrei potuto fare a meno di notarlo ecco veramente un mistero che mi sentivo incapace di spiegare ma anche in quel primo momento parve che balenasse nei più profondi e segreti angoli del mio impelletto il lieve bagliore come di lucciola della concezione embrionale di quella verità di cui la nostra avventura della scorsa notte ti ha condotto alla magnifica dimostrazione mi lavai subito e riposta la pergamena in un posto sicuro rimandai ogni ulteriore riflessione a quando fossi rimasto solo appena voi ve ne foste andate e jupiter si fu addormentato bene mi mise ad esaminare la cosa con metodo prima di tutto considerai il modo col quale la pergamena era capitata fra le mie mani il punto dove avevamo scoperto lo scarabeo si trovava sulla costa di terraferma e a un miglio circa occidente dell'isola ma poco più sopra del livello dell'alta marea quando lo acchiappai l'insetto mi morsicò crudelmente e io lo lasciai cadere jupiter con la sua cautela abituale prima di prenderlo essendo quello voltato verso di lui cercò intorno a sé una foglia o qualche cosa del genere da adoperare per impadronirsene fu in quel momento che i suoi occhi e anche i miei caddero sul pezzetto di pergamena che prese allora per carta era mezzo sepolto nella sabbia con un angolo di fuori presso al luogo in cui lo trovammo osservai i resti dello scafo di quel che sembrava la barca di salvataggio di una nave quei rottami di naufragio dovevano essere lì da gran tempo perché a malapena vi si poteva riconoscere la somiglianza con l'armatura di una barca jupiter dunque raccolse la pergamena si rinvoltò l'insetto e me la consegnò poco dopo prendemmo il cammino del ritorno e incontrammo il tenente G io gli mostrai l'insetto e lui mi pregò di lasciargli aeroportare al forte ha consentito che ebbi e gli se lo cacciò nel taschino del panciotto senza la pergamena nella quale era stato involto e che io avevo continuato a tenere in mano nel mentre l'ufficiale esaminava lo scarabeo forse egli ebbe paura che io mutassi parere e giudicò prudente assicurarsi anzitutto della sua preda voi conoscete il suo entusiasmo per tutti i soggetti che si riferiscono alla storia naturale in quel momento senza pensarci devo essermi cacciato in tasca alla pergamena vi ricordate che quando mi misi al tavolino per fare uno schizzo dello scarabeo non trovai la carta guardai nel cassetto non ce n'era neppure lì mi frugai nelle tasche sperando di cavarne una vecchia lettera e mi trovai la pergamena fra le dita vi narro minuziosamente il modo preciso nel quale la pergamena è caduta in mio possesso perché le circostanze mi hanno singolarmente impressionato senza dubbio mi terrete per un sognatore ma avevo già stabilito una specie di connessione avevo unito due anelli di una lunga catena una barca arenata sulla costa e non lontano una pergamena non c'ha una carta con l'immagine di un teschio naturalmente voi domanderete dove sta il rapporto e io risponderò che il teschio è l'emblema ben noto dei pirati in tutti i loro combattimenti inalberano sempre la bandiera col teschio ho detto che si trattava di un pezzo di pergamena e non di carta la pergamena è durevole quasi indistruttibile è raro che si affidino alla pergamena cose di poca importanza poiché risponde assai meno bene della carta agli scopi più consueti della scrittura e del disegno questa riflessione investiva di un senso singolare non privo di un certo rilievo quel teschio né mancai di osservare la forma della pergamena sebbene uno degli angoli fosse stato distrutto da qualche accidente si poteva ancora vedere che la forma originale era bislunga era proprio una di quelle strisce che possono venire scelte per una memoria per annotare qualche cosa da essere conservato a lungo e con cura ma interrupio voi dite che il teschio sulla pergamena non c'era quando disegnaste lo scarabeo come potevate dunque stabilire un rapporto fra la barca e il teschio poiché questo lo ammettete voi stesso deve essere stato disegnato Dio sa come e da chi in un periodo di tempo susseguente al vostro disegno ecco è proprio su questo punto che si impernia tutto il mistero quantunque abbia avuto una difficoltà relativa a risolverlo i miei passi erano sicuri e non potevano condurmi che a un solo risultato ragionai pressapoco così quando disegnai lo scarabeo sopra alla pergamena non vi era traccia di teschio passato a voi il disegno stetti ad osservarvi senza perdervi un momento di vista fino a che non me lo rendeste non potevate dunque essere stato voi a disegnare il teschio e nessun altro era presente non era opera di mano umana eppure era stato fatto giunto a questo punto delle mie riflessioni sforzai la memoria e mi ricordai ben distintamente ogni più piccolo incidente avvenuto in quell'intervallo la stagione raro e fortunato caso era fredda e la fiamma divampava nel caminetto io ero riscaldato dal moto e mi mise a sedere vicino alla tavola voi invece avevate portato la vostra sedia vicino al camino proprio nel momento in cui io misi la pergamena nelle vostre mani e voi eravate sul punto di esaminarla Wolf il mio cane di terranova entrò nella stanza e vi saltò alle spalle mentre lo accarezzavate con la mano sinistra e cercavate di scostarlo lasciaste andare con non curanza la mano destra con la pergamena fra le ginocchia vicinissima al fuoco un momento credetti che l'avesse presa la fiamma e fui sul punto di dirvi di stare attento ma prima che potessi parlare l'avevate ritirata e vi eravate messo a esaminarla considerate tutte queste circostanze non dubitai più per un solo istante che fosse stato il calore a causare l'apparizione del teschio sulla pergamena sapete bene che esistono e sono sempre esistite preparazioni chimiche per mezzo delle quali si può scrivere sulla carta o sulla pergamena in modo che i caratteri non risultino visibili se non quando vengono sottoposti all'azione del fuoco spesso si adopera il turchino di smalto disciolto in acquaragia e diluito in quattro volte il suo peso d'acqua pura ne risulta una tinta verde il regolo di cobalto sciolto nello spirito di nitro da un rosso questi colori spariscono non appena dopo un intervallo di tempo più o meno lungo la sostanza sulla quale si è con essi scritto si raffredda ma ricompariscono riesponendo la carta al calore esaminai allora con cura il teschio il contorno esterno e cioè quello più prossimo all'orlo della pergamena era molto più distinto dell'altro appariva chiaramente che l'azione del calorico era stata imperfetta o ineguale accesi immediatamente il fuoco e sottoposi ogni parte della pergamena a un calore ardente sulle prime il solo risultato fu di rinforzare le tenue linee del teschio ma perseverando nell'esperimento sull'angolo della striscia diagonalmente opposta al punto nel quale era stato tracciato il teschio divenne visibile una figura che alla prima supposi essere quella di una capra ma un più attento esame mi convince che si era voluto fare un capretto disse io non ho certo il diritto di beffarmi di voi un milione e mezzo di denaro è cosa troppo seria ma certo non siete sul punto di aggiungere un terzo anello alla vostra catena non troverete certo il rapporto tra i vostri pirati e una capra i pirati sapete bene non hanno nulla a che vedere con le capre che sono cose di interesse agricolo ma vi ho detto che l'immagine non era quella di una capra un capretto allora su per giù su per giù ma non è la stessa cosa disse le gran può darsi che abbiate udito parlare di un certo capitano kid io considerai subito la figura di questo animale come una specie di firma geroglifica giocando sulle parole dico firma perché il posto che occupava sulla pergamena suggeriva naturalmente questa idea e il teschio sull'angolo diagonalmente opposto aveva nello stesso modo l'aria di uno stampo un sigillo ma fui crudelmente deluso dall'assenza del resto del corpo medesimo di quello che immaginavo fosse un documento suppongo che speravate di trovare una lettera fra lo stampo e la firma qualcosa del genere il fatto è che mi sentivo irresistibilmente invaso dal presentimento di una immensa fortuna e perché non lo saprei dire era forse in fin dei conti un desiderio piuttosto che una vera e propria credenza ma lo credereste che le assurde parole di jupiter che lo scarabeo era d'oro massiccio avevano avuto una grande influenza sulla mia immaginazione e poi la serie di incidenti e coincidenze era veramente straordinaria avete osservato per quale fortuito caso tutti questi avvenimenti dovevano essere accaduti il solo giorno dell'annata che abbia fatto abbastanza freddo da accendere il fuoco e che senza il fuoco e l'intervento del cane al momento preciso in cui avevate la pergamena in mano non avrei mai preso conoscenza del teschio e così non avrei mai posseduto questo tesoro ma andate avanti sono tutto in pazienza bene voi saprete immagino tutte le storie i mille vaghi rumori diffusi sui tesori sotterrati da Kid e i suoi compagni sulle coste dell'Atlantico quelle dicerie dovevano avere un qualche fondamento nei fatti che siano durate con tanta persistenza da tanto tempo secondo me doveva derivare dalla circostanza che il tesoro si trovava ancora sotterrato se Kid avesse celato il suo bottino per un certo tempo e poi lo avesse ripreso quei rumori non sarebbero arrivati sino a noi nella forma invariabile che hanno oggi di osservate che le storie sono sempre di cercatori e mai di trovatori di tesori se il pirata avesse recuperato il suo denaro non se ne sarebbe parlato più a me parve che una evenienza qualsiasi la perdita dell'appunto che indicava la località per esempio lo dovesse aver privato della possibilità di recuperarlo e che questo fatto fosse venuto a conoscenza dei suoi compagni i quali altrimenti non avrebbero mai saputo che il tesoro era stato nascosto e con le loro infruttuose ricerche avevano dato origine a quelle storie che sono poi diventate così comuni avete mai udito parlare di un importante tesoro che sia stato dissotterrato sulla costa mai ma che chi d'abbia accumulato immense ricchezze è notorio io ero sicuro che la terra doveva ancora tenerle nel suo grembo e non vi stupirete se vi dico che cominciai a provare una speranza la quale si andava poco a poco mutando incertezza che la pergamena così singolarmente capitata nelle mie mani contenesse l'indicazione perduta del posto dove il tesoro era stato depositato ma come avete proceduto esposi di nuovo la pergamena alla fiamma dopo averla ravvivata ma nulla comparve allora credetti possibile che lo strato di sudicio che vi era depositato fosse la causa dell'insuccesso perciò pulì accuratamente la pergamena versandovi sopra acqua calda e fatto questo la misi dentro a una casseruola di ferro col cranio volto all'ingiù quindi adagiai la casseruola sopra un bracere ardente dopo pochi minuti il recipiente essendosi riscaldato bene ne trassi la striscia di carta pecora e con gioia inesprimibile ne accorsi che in parecchi punti era macchiata da segni che parevano cifre messe in fila la rimisi nella casseruola e ve la lasciai ancora un minuto quando la levai era come la vedete ora a questo punto le gran avendo ancora una volta riscaldata la pergamena la sottopose al mio esame i caratteri seguenti segnati grossolanamente in rosso erano tracciati fra il cerchio e il capretto 53 doppio fiore doppio fiore fiore semplice 305 parentesi tonda parentesi tonda destra 6 asterisco punto e virgola 4826 parentesi tonda destra 4 doppio fiore punto 4 doppio fiore parentesi tonda destra punto e virgola 8 o 6 asterisco punto e virgola 48 fiore semplice 8 enter 6 o parentesi tonda destra parentesi tonda destra 85 5. 2 punti. 1. Doppio fiore, parentesi tonda. Sinistra, punto e virgola. 2 punti. Doppio fiore, 8. Bexta. 3 simputei. 83. Parentesi tonda. Sinistra, 88. Parentesi tonda. Destra. 5. Asterisco. Fiore semplice. 2. 2 punti. Asterisco. Doppio fiore, parentesi tonda. Sinistra, punto e virgola. 4956. Asterisco. 2. Parentesi tonda. Sinistra. 5. Asterisco. Trattino. 4. parentesi tonda destra, 8, Enter, 8 asterisco, punto e virgola, 40, 69, 285, parentesi tonda, destra, punto e virgola, parentesi tonda destra, 6, fiore semplice, 8, parentesi tonda destra, 4, doppio fiore, doppio fiore, punto e virgola, 1, parentesi tonda, destra, doppio fiore, 9, punto e virgola, 48, 0, 81, punto e virgola, 8, 2 punti, 8, doppio fiore, 1, punto e virgola, 48, fiore semplice, 85, punto e virgola, 4, parentesi tonda, destra, 485, fiore semplice, 528, 805, asterisco, 81, parentesi tonda destra, doppio fiore, 9, punto e virgola, 48, punto e virgola, 88, punto e virgola, 4, doppio fiore, punto di domanda, 34, punto e virgola, 48, parentesi tonda sinistra, 4, doppio fiore, punto e virgola, 161, punto e virgola, 2 punti, 188, punto e virgola, doppio fiore, punto di domanda, punto e virgola. Ma, se ci restituendogli la striscia, io sono nel buio più di prima. Se tutti i tesori di Golconda mi aspettassero alla soluzione di questo enigma, non sarei capace di guadagnarli. Eppure, rispose Legrand, la soluzione non è poi tanto difficile come può sembrare al primo esame affrettato. Questi caratteri, come ognuno potrebbe facilmente indovinare, formano una cifra, il che significa che hanno un senso nascosto. Ma, da quel tanto che si conosce di Kid, non lo potevo certo supporre capace di comporre un saggio di crittografia molto astrusa. Decisi dunque subito che anche questo dovesse essere un genere semplice, tale però da sembrare assolutamente insolubile all'intelligenza grossolana del marinaio che non ne avesse la chiave. E voi l'avete risolto davvero? Molto facilmente. Ne ho risolti altri diecimila volte più complicati di questo. Le circostanze e una certa inclinazione della mente mi hanno sempre spinto a interessarmi a questo genere di enigmi ed è veramente da porre in dubbio che l'intelligenza umana possa creare un enigma di questa specie che poi l'ingegno umano con l'applicazione necessaria non riesca a spiegare. Infatti una volta riuscito a stabilire una serie di caratteri leggibili, detti poco peso alla mera difficoltà di svilupparne il significato. Nel caso presente, come in ogni caso di scrittura segreta, il primo quesito da sciogliere è la lingua della cifra, già che i principi di soluzione, segnatamente in quanto si tratti delle cifre più semplici, dipendono e ne sono modificati dal genio dell'idioma. In generale non c'è altra strada che sperimentare successivamente, dirigendosi secondo le probabilità, tutte le lingue che si conoscono, fino a tanto che si sia trovata la buona. Ma nella cifra che abbiamo davanti a noi, ogni difficoltà in proposito era risoluta dalla firma. Il gioco di parole sulla parola kid non si può fare che in inglese. Senza questa circostanza avrei incominciato i miei tentativi dallo spagnolo e dal francese, come le lingue nelle quali un pirata dei mari spagnoli avrebbe naturalmente scritto un segreto di tal natura. ma, date le circostanze, era da presumere che il crittogramma fosse in inglese. Osservate come fra le varie parole non esiste divisione. Se vi fossero state divisioni, la soluzione sarebbe stata relativamente facile. In simile caso avrei cominciato con un confronto e un'analisi delle parole più brevi e se avessi trovato, com'è più probabile, una parola ad una sola lettera, A, per esempio, o I, avrei ritenuto la soluzione assicurata. Ma non essendoci divisioni, il mio primo passo era di rilevare quali fossero le lettere predominanti, come anche quali fossero quelle che capitavano più raramente. Le contai tutte e potei stabilire la tavola seguente. Il carattere 8 si trova 33 volte. Il carattere punto e virgola si trova 26 volte. Il carattere 4 si trova 19 volte. Il carattere doppio fiore si trova 16 volte. Il carattere parentesi rotonda, destra, si trova 16 volte. Il carattere asterisco si trova 13 volte. Il carattere 5 si trova 12 volte. Il carattere 6 si trova 11 volte. Il carattere fiore si trova 8 volte. Il carattere 1 si trova 8 volte. Il carattere 0 si trova 6 volte. Il carattere 9 si trova 5 volte. Il carattere 2 si trova 5 volte. Il carattere 2 punti si trova 4 volte. Il carattere 3 si trova 4 volte. Il carattere punto di domanda si trova 3 volte. Il carattere enter si trova 2 volte. Il carattere trattino si trova 1 volta. Il carattere punto si trova 1 volta. Ora la lettera che in inglese ricorre più spesso è la E. Le altre si succedono in quest'ordine. O, A, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, E, F, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. La E predomina così notevolmente che è raro trovare una sola frase di una certa lunghezza nella quale essa non sia la lettera più frequente. Noi abbiamo dunque, fin dal principio, una base d'operazione che è qualche cosa di più di una mera congettura. L'uso generale che può farsi di questa tavola è ovvio, ma per ciò che riguarda questa cifra particolare noi non ce ne serviremo che parzialmente. Poiché il nostro carattere dominante è l'otto, cominceremo a prenderlo per l'è dell'alfabeto naturale. Per verificare questa supposizione vediamo prima di tutto se il numero otto si trova spesso raddoppiato, poiché l'è inglese si raddoppia molto di frequente, come per esempio nella parola meet, speed, sin, bin, agree, eccetera, agree, eccetera. Nel caso nostro, a dispetto della brevità del crittogramma, lo troviamo raddoppiato non meno di cinque volte. Prendiamo dunque l'otto per la E. Ora, di tutte le parole della nostra lingua, la parola V è la più comune. Cerchiamo perciò se non ci siano ripetizioni di tre caratteri posti nello stesso ordine dei quali l'otto sia l'ultimo. Se ne troveremo, è probabile che rappresentino la parola V. Infatti ne troviamo non meno di sette. I caratteri sono 48. Possiamo quindi arguire che il punto e virgola rappresenta la T e che il 4 rappresenta l'H e l'8 la E. Il significato di quest'ultimo segno venendole confermato. Così abbiamo fatto un grosso passo avanti. Ma avendo spiegato una sola parola, siamo in grado di stabilire un punto molto più importante, e cioè il principio e la fine di altre parole. Prendiamo per esempio il penultimo caso, in cui si presenta la combinazione punto e virgola e 48 quasi alla fine del crittogramma. sappiamo che il segno virgolette, che viene immediatamente dopo la formula 48, è il principio di una parola. E dei sei caratteri che seguono il V ne conosciamo già non meno di cinque. Mettiamo quindi al posto dei caratteri le lettere che sappiamo che rappresentano, lasciando vuoto lo spazio per quella che ancora non conosciamo. T e e TH. Qui siamo subito in grado di scartare il TH, che non può essere parte della parola che comincia col primo T, poiché sostituendo alla lettera mancante tutte le lettere dell'alfabeto, troviamo che nessuna parola può essere formata in modo da terminare con TH. I caratteri si riducono quindi a T e E. E riprendendo da capo, se occorra tutto l'alfabeto, arriviamo alla parola free, albero, come la sola versione possibile. Abbiamo così guadagnato una nuova lettera, R, rappresentata dal segno virgolette. E abbiamo anche due parole unite, THE THREE, l'albero. Andando avanti, a poca distanza, troviamo la combinazione 48 e ce ne serviamo come di termine per la parola che precede immediatamente. Abbiamo quindi la formula seguente. THE THREE, punto e virgola, 4, parentesi tonda a sinistra, doppio fiore, punto di domanda, 34, THE. E sostituendo dove lo possiamo, le lettere naturali abbiamo THE THREE, THR, doppio fiore, punto di domanda, 34, THE. Ora, se al posto dei caratteri che ci sono ancora ignoti, mettiamo spazio e puntini, avremmo THE THREE, THR, H, THE, dove la parola THROUGH attraverso balza subito fuori. Ma questa scoperta ci dà altre lettere O, U, E, A, O, U e G, rispettivamente rappresentate dai caratteri, doppio fiore, virgola, punto di domanda e tre. Ora, se cerchiamo con molta attenzione nel crittogramma le varie combinazioni di caratteri conosciuti, troviamo non lontano dal principio questa combinazione, 83, parentesi rotonda a sinistra, 88, ossia EGRI, che senza alcun dubbio è la desinenza della parola DEGRI, grado, che ci offre ancora una nuova lettera, D, rappresentata dal segno F. Quattro lettere dopo la parola DEGRI, troviamo la combinazione punto e virgola 46, parentesi tonda a sinistra, punto e virgola 88 asterisco, dalla quale, traducendo le lettere che conosciamo e rappresentando con un punto la sconosciuta, come prima abbiamo THRTEE, composizione che ci suggerisce subito la parola FUTIN, 13, e ci fornisce due nuove lettere, I ed N, rappresentate dalla figura 6 e asterisco. Risalendo ora al principio del crittogramma, troviamo la combinazione 53, due volte doppio fiore, fiore singolo punto. Traducendola come sopra abbiamo GOOD, ciò che ci prova è che la prima lettera deve essere A, e che per conseguenza le due prime parole sono A GOOD. Ora, per evitare confusioni, è tempo di disporre in forma di tavola la chiave che abbiamo trovata finora. Si presenterà così. 5 rappresenta A, fiore rappresenta D, 8 rappresenta E, 3 rappresenta G, 4 rappresenta H, 6 rappresenta I, asterisco rappresenta N, doppio fiore rappresenta O, parentesi tonda rappresenta R, punto e virgola rappresenta T. Abbiamo così non meno di 10 lettere delle più importanti, e mi sembra inutile di seguitare coi particolari della soluzione. Ho detto abbastanza per convincervi che i caratteri cifrati di questa specie sono facilmente solvibili e per darvi un'idea dell'analisi ragionata del loro sviluppo. Ma siate pur sicuro che il saggio che abbiamo ora sotto gli occhi appartiene alla categoria delle crittografie più semplici. Ora non mi resta che darvi la traduzione completa dei caratteri della carta pecora, come vennero decifrati. Eccola, un buon vetro nell'albergo del vescovo nella seggiola del diavolo, 41 gradi e 13 minuti nord-est, quarto di nord, fusto principale, settimo ramo lato est. Lascia cadere dall'occhio mancino del teschio una linea retta dall'albero attraverso la palla, 50 piedi dal largo. Ma, dissi io, l'enigma mi pare peggio di prima. Com'è possibile ricavare un significato da questo miscuglio di seggiola del diavolo, teschio, albergo del vescovo? Convengo, rispose Legrand, che la faccenda a prima vista sembri ancora abbastanza seria. La mia prima prova fu di dividere il periodo nelle divisioni naturali intese dal crittografista. Volete dire di punteggiarlo? Qualche cosa del genere. Ma come diamine era possibile farlo? Riflettei che colui che aveva scritto sarà fatto un dovere di raggruppare le parole senza divisione fra loro, così da rendere più difficile la soluzione dello scritto. Ora, qualcuno che non sia eccessivamente astuto, in un tentativo di questo genere, sarà sempre proclive a sorpassar la misura. Quando, nel corso della sua composizione, arrivi a una interruzione del senso che naturalmente richiederebbe una pausa o un punto, sarebbe talmente spinto ad avvicinare i caratteri più del consueto. Osservate il manoscritto e scoprirete con facilità cinque casi di questo insolito avvicinamento di caratteri. Seguendo questo indizio, arrivai a stabilire le divisioni seguenti. Un buon vetro nell'albergo del vescovo, nella seggiola del diavolo, 41 gradi e 13 minuti, nord-est, quarto di nord, fusto principale, settimo ramo, lato est. Lascia cadere dall'occhio mancino del teschio una linea retta dall'albero, attraverso la palla, 50 piedi a largo. «Malgrado la vostra divisione», disse io, «rimango sempre nel buio». «Anch'io», rispose le gran, «vi rimasi per qualche giorno». E in questo tempo feci dirigenti ricerche, nelle vicinanze dell'isola di Sullivan, di una casa che portasse il nome di albergo del vescovo, intendendo la vecchia voce «hostel per hotel». Non avendo tenuto a questo riguardo nessuna informazione, ero sul punto di allargare la sfera delle mie ricerche e di procedere in maniera più sistematica, quando una mattina mi saltò in mente che le parole «bishop's hotel» potevano benissimo avere rapporto con un'antichissima famiglia a nome Bessop, che da tempo immemorabile è in possesso di un'antica casa da signore a quattro miglia circa a nord dell'isola. Mercai dunque alla piantagione e ricominciai le mie ricerche fra i negri più vecchi del posto. Finalmente una donna delle più vecchie mi disse di aver inteso parlare di un posto detto Bessop's Castle, castello di Bessop's, e che credeva bene di potermi ci condurre, ma che non era né un castello né un albergo, ma un'alta roccia. Le offrì di pagarla bene per il suo disturbo e dopo qualche esitazione consentì ad accompagnarmi fino al luogo previsto, trovato il quale, senza grandi difficoltà, accommetta la donna e prese a esaminare il luogo. Il castello consisteva in un cumulo irregolare di picchi e di rupi, una delle quali era assai notevole, tanto per l'altezza quanto per il suo aspetto isolato e come artificiale. Mi arrampicai sulla cima, ma una volta lì non sapevo proprio più quel che mi rimanesse da fare. Mentre ero assorto nelle mie riflessioni, i miei occhi caddero sopra una stretta sporgenza nella faccia orientale della rupe, circa un metro al di sotto della vetta sulla quale mi trovavo. Questa sporgenza si spingeva in fuori per un diciotto pollici e non aveva più di un piede di larghezza. Una nicchia scavata nel picco sopra di essa le dava una certa somiglianza con le seggiole a schienale concavo di cui si servivano i nostri avi. Non dubitai che quella fosse la seggiola del diavolo a cui alludeva il manoscritto e mi parve di essere ormai padrone di tutto il segreto dell'enigma. Sapevo che il buon vetro non poteva significare altro che un buon cannocchiale. I nostri marinai ben di rado adoperano la parola glas in altro senso. Capii quindi subito che bisognava servirsi ad un buon cannocchiale da un punto di vista ben definito che non ambetteva variante alcuna. Ne ebi la minima esitazione a credere che le frasi 41 gradi e 13 minuti e nord-est quarto di nord dovevano dare la direzione per puntare il cannocchiale. Eccitatissimo da queste scoperte volai a casa, mi procurai un cannocchiale e ritornai alla roccia. Mi lasciai scivolare sulla sporgenza e trovai che era impossibile starvi seduti se non in una data posizione. Il fatto confermò la mia congettura. Mi mise allora a servirmi del cannocchiale. Naturalmente i 41 gradi e 13 minuti non potevano riferirsi che alla elevazione sull'orizzonte visibile poiché la direzione orizzontale era chiaramente indicata dalle parole nord-est quarto di nord. Stabili questa direzione per mezzo di una bussola tascabile. Poi appuntando il più esattamente possibile il cannocchiale ad un angolo di 41 gradi di elevazione lo feci muovere con cautela dall'alto in basso e dal basso in alto finché la mia attenzione non si fermò su un'apertura, un vuoto circolare nel fogliame di un albero che dominava tutti i suoi vicini nella distanza. Al centro del vuoto scorsi un punto bianco ma sulle prime non potevo distinguere che cosa fosse. Mettendo a fuoco il cannocchiale guardai di nuovo e vidi allora che si trattava di un teschio umano. Dopo questa scoperta mi sentì così sicuro da credere sciolto l'enigma poiché la frase fusto principale settimo ramo lato est non poteva riferirsi che alla posizione del teschio sull'albero mentre l'altra lascia cadere dall'occhio mancino del teschio ammetteva anch'essa una sola interpretazione nel caso della ricerca di un tesoro sepolto. Capì che si doveva lasciar cadere una palla dall'occhio mancino del teschio e che una linea retta partendo dal punto più vicino al tronco e passando attraverso la palla, vale a dire attraverso il punto in cui la palla sarebbe caduta, avrebbe indicato un punto definito e sotto questo punto mi pareva almeno possibile che si trovasse nascosto un deposito di valore. Tutto ciò, dissi, è chiarissimo e per quanto ingegnoso tuttavia semplice ed esplicito. Allora, lasciato l'albergo del vescovo, dopo aver preso nota accuratamente della posizione dell'albero, tornai verso casa. Però appena ebbi lasciato la seggiola del diavolo, il vano circolare disparve e da qualunque parte mi volgessi mi fu impossibile ritrovarlo. Quel che mi parve la cosa più ingegnosa in tutta questa faccenda è il fatto, perché ripetendo l'esperimento mi convinse che era un fatto, che l'apertura circolare in questione non è visibile da altro punto che dalla stretta sporgenza sul fianco delle rupe. In quella spedizione all'albergo del vescovo ero stato accompagnato da Jupiter, il quale senza dubbio da qualche settimana andava osservando la mia aria preoccupata e stratta e metteva una cura particolare a non lasciarmi mai solo. Ma il giorno seguente, alzandomi di buonissima ora, riuscì a sfuggirgli e mi recai sulle colline in cerca dell'albero. Con molto sforzo lo ritrovai. La notte, quando tornai a casa, il mio domestico era sul punto di bastonarmi. Il resto dell'avventura lo conoscete bene, come me. «Suppongo», dissi, «che nel primo tentativo di scavo avete sbagliato il posto in seguito alla stupidità di Jupiter, che lasciò cadere lo scarabeo dall'occhio destro anziché dal sinistro». «Precisamente. L'errore fece una differenza di due pollici circa rispetto alla palla, vale a dire rispetto alla posizione del piolo conficcato vicino all'albero. Se il tesoro fosse stato nascosto nel punto segnato dalla palla, l'errore sarebbe stato di poco momento. Ma la palla e il punto più vicino dell'albero erano soltanto due punti per stabilire la linea di direzione. Naturalmente l'errore, per quanto trascurabile al principio, aumentava proporzionalmente alla lunghezza della linea. Arrivati a 50 piedi di distanza, arrivati a 50 piedi di distanza, ci aveva fatto perdere del tutto la traccia. Non fosse stato per l'idea fissa che mi possedeva, che vi doveva essere un tesoro nascosto da quelle parti, potremmo aver perso tutte le nostre fatiche. Ma la vostra enfasi, il vostro atteggiamento nel dondolare lo scarabeo, che bizzarria. Ero sicuro che foste pazzo. E perché avete insistito per far calare il vostro insetto dall'occhio del teschio, invece di una palla? Ecco, per essere franco, ero piuttosto seccato dei vostri sospetti sullo stato della mia mente. E così risolvetti di punirvene tranquillamente, a modo mio, con un pochino di fredda mistificazione. Ecco perché dondolavo lo scarabeo. Ecco perché vogli farlo cadere dall'alto dell'albero. La vostra osservazione sul suo peso me ne dette l'idea. Sì, vedo. E ora non c'è più che un punto che mi dà da pensare. Che spiegazione dare agli scheletri trovati nella fossa? Ah, questa è una domanda alla quale non so rispondere meglio di voi. Comunque mi pare che ci sia solo un modo plausibile di spiegarla, ma la mia ipotesi implica un'atrocità difficile a credersi. È evidente che Kid, se come io non dubito, è stato Kid a nascondere il tesoro, ha dovuto farsi aiutare nel suo lavoro. Finito il lavoro, può darsi che abbia giudicato conveniente far sparire quanti si trovavano a conoscenza del segreto. Forse bastarono un paio di buoni colpi di zappa, nel mentre gli aiutanti erano ancora occupati nella fossa. Forse ne occorsero una dozzina. Chi può dirlo?